...i cavalli che si contendono all'ottava qui alla Breda di Padova, allineati dietro al mezzo meccanico, pronta al lancio. Macchina che prende velocità, stacca in questo momento Pusiket Francis in lotta con Ohio FKS. I due testa a testa a lottare verso la prima piegata, scende allo steccato davanti Pusiket Francis che riesce a guadagnare il comando davanti a Ohio FKS. Passaggio e primi 200 di corsa, 14.9. Si incarica quindi Michele Canali su Pusiket Francis a dettare il ritmo della corsa. Intanto vediamo per corsie esterne, si avvicina verso il battistrada, più o meno all'altezza dei 400 metri, 31.3 intanto il passaggio ai 400 metri. Si avvicina, dicevo, il 10 di Perla Nera Grad che adesso è proprio lì all'altezza del sulchi del battistrada. Quindi davanti a tutti Pusiket Francis, poi il 10 di Perla Nera Grad sullo steccato, l'uno di Ohio FKS, poi ancora per corsie esterne, prima donna ZS. 47.6, passaggio 600. Si torna a transitare sotto le tribune. Al comando ancora Pusiket Francis, andiamo verso il completamento del primo giro di corsa. Alle spalle del battistrada, 1.037 intanto passaggio al mezzo miglio, dicevo, alle spalle del battistrada. Ci sono Ohio FKS per la Nera Grad, poi ancora prima donna ZS e Pizzolotto. Siamo con il completamento della piegata, passaggio al chilometro. 1.19.8, gruppo abbastanza compatto quando siamo al passaggio al chilometro. Davanti a tutti c'è ancora Pusiket Francis che continua a mantenere il comando della corsa. Andiamo verso l'ultima piegata. Siamo all'incirca 400 dall'epilogo. Eccoli i cavalli che vanno a affrontare l'ultima piegata. per corsia esterna in terza ruota a Pecunias, che portanto intanto ha ridosso del gruppo di testa. Ma è un gruppo compatissimo, ha 200 dall'epilogo. Vediamo cosa esce praticamente da questa ultima piegata con il numero 4 Pusiket Francis ancora in vantaggio. La lotta però alle sue spalle con il numero 1 di Ohio FKS che prova a bucciarlo negli ultimi metri. e ce la fa Ohio FKS, invece sono vicinissimi e qui credo ci sarà bisogno forse della foto. Pusiket Francis con Indian, che sono davvero molto molto vicini. Quindi direi Ohio FKS, probabile foto tra il 4 e l'11.